Sindaco, questa vicenda dell'ospedale sta prendendo aspetti anche poco piacevoli, forse il segnale ritorna in auge con questo algoritmo, Movimento 5 Stelle, forze politiche, ma anche intrinseche alla maggioranza si stanno mettendo in moto. Cosa sta succedendo? Non deve stupire perché il tema della sanità è inevitabilmente un tema molto sensibile, tocca a tutte le persone, c'è un'attenzione forte, questo accade in tutte le città, in tutti i territori dove si parla di sanità. E' chiaro che quando un tema è complesso ci sono anche visioni, ci sono aspettative, ci sono preoccupazioni. Per quello che mi riguarda io ho tenuto sempre la barra ferma e questo lo si evince da ogni mia azione, dalle cose che ho fatte e anche dal dibattito. Onestamente ho evitato, di questo ne sono convinto e penso di aver fatto veramente il sindaco di questa città avendo impedito di subire scelte di altri, perché le scelte devono essere condivise anche se dobbiamo essere consapevoli che purtroppo non è un comune una città che decide. Quando parliamo di sanità è una competenza della regione, quindi le dinamiche sono diverse, gli interlocutori sono molteplici e quindi sotto questo aspetto aumenta la complessità. Quindi inevitabilmente il dibattito è stato e sarà e lo è ancora forte sia a livello cittadino che provinciale. Col PD c'è il dialogo, si parla, questo tutti a casa è vero o è un modo così per richiamare tutti all'ordine? Beh intanto c'è sempre un momento in cui bisogna fermare le bocce e chiarirsi. Devo dire che ci sono state delle uscite più personali di partito, però ogni uscita comunque possono manifestare un malessere, possono manifestare delle opinioni. Quando ci sono è bene confrontarsi, io l'ho già fatto ieri, ci siamo incontrati, comunque le nostre posizioni non cambiano. Noi siamo fermamente convinti che la soluzione migliore della scelta del sito sia quella di Chiaruccia, come tutti gli interlocutori esterni che sono al di sopra delle parti riconoscono. Però sono anche consapevole che non siamo noi a decidere, quindi io fino alla fine quella battaglia la porterò avanti. E poi ovviamente devo tener conto anche di quella che è la situazione, di quelle che saranno le situazioni che emergeranno, cercando di portare il miglior risultato per questa città. Il prossimo appuntamento è con l'area vasta, con i sindaci, con i suoi colleghi. Che prospettive, che cosa si metterà in campo in quell'occasione? Siamo in una fase di discussione perché il sindaco Gambini, con il quale mi sento periodicamente, ovviamente non è che convocherà un'assemblea allo sbaraglio, cercherà di arrivare con una condivisione se questa è possibile e io mi auspico che così sia.